I termosifoni sono spenti, anche quelli dell'ITI, sappiamo di tutte queste scuole, sono spenti. E' un problema perché è il 20 di novembre e fa freddo. I termosifoni sono spenti e gli studenti non entrano in classe. Mattinata di mobilitazione all'ISIS Valdarno di San Giovanni. I rappresentanti degli studenti denunciano che l'impianto di riscaldamento è fermo ormai da qualche giorno nei treplessi che compongono l'istituto, in particolare dal 16 novembre nella lavecchia dell'ITTI Ferraris in Viale Gramsci, da tre settimane poi all'ITI Severi, ma è entrato infine in funzione all'ex convento delle Suore Benedettine di Via San Lorenzo, spazio che ospita dieci delle classi del professionale Marconi dopo il crollo del solaio e del controsoffitto in un'aula che ha reso inagibile parte della sede di Via Trieste. Anche i professori salamentati, i bidelli, è un problema che affligge tutti in questa scuola, non solamente noi, quindi riteniamo lo sciopero sia giusto e vogliamo essere calcolati di più come scuola. Il nostro istituto ha molti problemati, appunto, oltre al riscaldamento anche l'istituto davanti non ha i tetti, sono crollati, ci sono ragazzi che non hanno la scuola, cioè, e niente, quindi vogliamo essere calcolati un po' di più.